Ciao, sono Paolo Capriotti, preparatore atletico professionista e fondatore di OCR Training Lab, il primo portale dedicato al mondo dell'endurance per sport quali il running, il trail e le OCR. In questo video ti parlerò dei principi di un allenamento sportivo ottimale. L'allenamento sportivo per essere efficace deve eseguire dei principi fondamentali. In questo video approfondirò insieme a te quelli che sono i principali aspetti da tenere in considerazione. Il primo principio riguarda le fondamenta. Ogni disciplina sportiva si basa su degli aspetti chiave. Prendiamo ad esempio la corsa. Gli aspetti fondamentali sono la tecnica di corsa e il condizionamento generale, la resistenza di base. Senza una buona tecnica di corsa e senza una resistenza generale non riusciremo né a correre in maniera efficace né tantomeno in maniera prolungata. Proprio per questo motivo è bene focalizzarsi su quelle che sono le fondamenta di ogni disciplina. Negli sport di endurance purtroppo la tecnica viene molto sottovalutata. Pensate ad esempio al nuoto. Una buona bracciata vale molto di più di centinaia di ripetizioni in vasca. Eppure ci si focalizza nell'allenarsi in maniera sempre più intensa, non focalizzandosi invece sulla tecnica di base. Lo stesso vale per la ginnastica, lo stesso vale per la pesistica. Alla base di queste discipline il movimento e la tecnica sono davvero essenziali. Altra fondamenta essenziale per gli sport di endurance sono le capacità condizionali. Avere una buona resistenza ci permetterà di performare al meglio negli sport di lunga distanza. Per questo motivo ti consiglio di individuare quelli che sono gli aspetti fondamentali della tua disciplina e investirci il tuo tempo e la tua energia. Vedrai che i risultati ti sorprenderanno. Il secondo principio riguarda la gestione del carico. Non siamo delle macchine, ovvero l'allenamento lineare non è efficace. Non possiamo in ogni uscita cercare di migliorare di qualche secondo il passo al chilometro. Ad ogni allenamento in palestra cercare di caricare uno o due chili in più sul bilanciere. Non funziona in questo modo. La fisiologia umana richiede dei carichi intermittenti. In alcuni allenamenti avremo energia e potremo cercare delle prestazioni submassimali. In altri invece dobbiamo necessariamente cercare un allenamento più facile, un allenamento di recupero. È perciò di vitale importanza ascoltare le sensazioni del proprio corpo e assecondarle nei nostri allenamenti. Un altro aspetto legato al carico è quello della gradualità. Dobbiamo infatti prevedere un aumento del volume e dell'intensità graduale nei nostri allenamenti. Allo stesso tempo è sconsigliabile fare degli strappi, passando magari da pochi a tanti chilometri di corsa settimanale, passando da magari dei carichi leggeri a dei carichi submassimali a livello di forza. È sempre necessario un periodo di adattamento che ci porterà a fare dei lavori più intensi. Bene, se ti sta piacendo questo video ti chiedo di mettere un mi piace e se non l'hai ancora fatto di iscriverti al nostro canale, così da restare sempre aggiornato su tutte le novità. Il terzo principio si basa sul condizionamento. Il corpo umano progredisce in base agli stimoli che riceve. Sembrerà banale, ma più alleniamo una certa qualità condizionale, più questa migliorerà nel tempo. Purtroppo però vale anche l'opposto, ovvero se lasciamo da parte una certa qualità condizionale, ad esempio la forza, in poco tempo perderemo tutti i guadagni che abbiamo fatto negli allenamenti precedenti. Per questo motivo è importante selezionare quelle che sono le qualità condizionali più importanti della nostra disciplina e mantenere con costanza gli allenamenti durante tutta la stagione. Ad esempio, negli sport misti come le OCR, la componente di forza non può essere allenata in maniera sporadica, ma deve essere allenata su base settimanale, sia a livello generale che specifico per la disciplina. Solo in questo modo possiamo garantire al nostro corpo di mantenere i livelli di forza necessari alla nostra attività. L'ultimo principio riguarda l'individualità. Ogni individuo ha una differente storia motoria e recepisce gli stimoli allenanti in maniera differente. È importante basare l'allenamento su quelle che sono le caratteristiche dell'individuo, proprio perché quello che potrebbe funzionare per alcuni non funziona per altri. Inoltre l'individualità deve tenere in considerazione anche la tipologia di gara. Infatti, per gare di lunga durata ci concentreremo maggiormente sulla componente aerobica, mentre su gare brevi andremo a lavorare più sulla potenza, più sull'intensità. L'allenamento dovrebbe prevedere il binomio atleta e gara di riferimento. Solo attraverso lo studio di queste due variabili possiamo somministrare una programmazione efficace. Sarai d'accordo con me che preparare un ciclista ad affrontare una gara di Ironman sarà sicuramente diverso che preparare un bodybuilder per affrontare una gara di lunga distanza. Come ti sarai reso conto, la scienza dell'allenamento è molto vasta. In questo video ho cercato di trasferirti quelli che sono i suoi principi fondamentali. Purtroppo molto spesso ci si affida ai consigli dell'amico, alle schede su internet e al fai da te. E questo porta a cadere vittima dei principali errori, di overreaching, di overtraining, di stallo delle performance e di infortunio. Se vuoi davvero raggiungere i tuoi obiettivi sportivi ti consiglio di affidarti a un professionista serio. Noi ci vediamo al prossimo video, a presto, ciao! Grazie a tutti!